E ora dove si continua a discutere della nuova centrale elettrica che sta per essere completata alle porte della città. Armando Mucchino ci spiega come funzionerà. Energia da olio prodotto da microalghe. Un impianto che utilizzerà questa innovativa biomassa sta sorgendo nel quartiere di Paderno a Udine. Un gigantesco motore di produzione ucraina abbroccerà 900 tonnellate l'anno di quest'olio ricavato dalle alghe per 8.000 ore l'anno con una potenza di 500 kWh elettrici e 630 termici. Da oltre 60 anni le università americane stanno studiando le microalghe oleari isolando alcuni ceppi oltremodo produttivi neppure paragonabili in rendimento per superficie impiegata con le colture tradizionali. Una società che vede come capofila la Pozzi e Martinenghi di Paderno sta ultimando impianti e iter burocratico. Se tutto andrà bene il grande motore potrà essere avviato già il prossimo autunno. Per i primi mesi brucerà olio di colza. Intanto su una superficie di un ettaro sarà avviato l'impianto di produzione delle microalghe. Donato Pozzi segue da mesi questo progetto. Da una parte è una produzione eminentemente agricola non forzata. Da quest'altra parte invece si procede proprio con un processo agricolo ma industriale. I kilowatt vengono dati all'Enel e i quali poi le somministra agli utilizzatori. Sono 170 famiglie o 170 nuclei da 3 kilowatt l'uno. Per i 600 kilowatt termici si stanno invece studiando soluzioni di teleriscaldamento. Impatto ambientale di questo impianto? Non ci sarà un grosso impatto ambientale perché naturalmente la macchina è dotata di filtri e dotata di tutti i dispositivi necessari. La pratica in ogni caso è sottoposta all'approvazione dell'ARPA. A livello di rumore mi dicono che siamo nell'ambito dei 50 decibel che è poco di più che un condizionatore, un frigorifero, cose di questo genere qua. Grazie a tutti.